Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop, vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che mi avete richiesto voi nel Google Docs. La protagonista di questa storia si chiama Jessie Blodgett, è una bravissima musicista e cantautrice, di solo 19 anni. Ma come al solito, andiamo con ordine. Jessie Blodgett nasce il 22 marzo del 1994 a Marietta, una città degli Stati Uniti, capoluogo della contea di Cobb, in Georgia, da Buck e Joy. Jessie crescendo diventa una musicista talentuosa. Vive a Dartford, una città degli Stati Uniti, situata in Wisconsin, nella contea di Washington, e in parte nella contea di Dodge. Frequenta la Dartford Union High School ed è un membro del coro della scuola. Jessie, all'inizio della sua adolescenza, inizia a guardarsi attorno. E il mondo in cui abita, la realtà che vede attorno a sé, non le piace affatto. Lotta fin da subito contro il bollismo e le ingiustizie. Sviluppa di conseguenza una forte coscienza sociale. Sostiene con orgoglio e ostinazione le sue cause, arrivando ad essere una difenditrice dei diritti degli animali, dell'ambientalismo, della sostenibilità, della giustizia sociale e della lotta per porre fine alla violenza sulle donne. Durante tutto il liceo si lega moltissimo ad un ragazzo, di nome Daniel Bartelt. I due sono molto simili, hanno interessi comuni, infatti ad entrambi piace dibattere. E anche Daniel suona e canta. Il suo strumento preferito è il violino, ma sa suonare anche il pianoforte e la chitarra. Ha anche un gruppo chiamato Angry Pillows, in cui suona e canta. Jessie e Daniel hanno provato ad uscire insieme per poco tempo durante il primo anno di liceo, ma dopo qualche mese hanno deciso di rimanere amici. Le canzoni per il gruppo, gli Angry Pillows, le scrive Daniel. È un grande intrattenitore, ma soprattutto è fidanzato con una ragazza di nome Ashley. Insomma pare che a Daniel non manchi proprio nulla. Anche Ashley fa parte del coro della scuola ed è un soprano. Ashley è una ragazza solare ed esuberante. È sempre allegra e trasmette molta felicità al prossimo. Un altro amico di Jessie è sicuramente Ian Nate. Il ragazzo considera Jessie la sua migliore amica e anche loro due fanno musica insieme al liceo. A Ian piace molto scrivere, mentre a Jessie piace molto cantare. I due quindi spesso si vedono nei bar per accordarsi su quando suonare insieme. Ben presto arriva l'estate del 2012. Daniel e Jessie cantano uno di fianco all'altro nel coro della scuola per il giorno del diploma. Dopo il diploma le loro strade si dividono. Daniel si iscrive alla University of Wisconsin Stevens Point con Ashley, la sua fidanzata, mentre Jessie fa l'audizione per un corso di musica presso l'University of Wisconsin, Milwaukee. Dopo un solo semestre, Dan torna in città. Incontra Jessie e le dice che ha abbandonato il college. Ora lavora in una fabbrica. Al secondo anno di università, Jessie riceve una borsa di studio per la sua estrema bravura nel programma di educazione musicale. Nel frattempo lavora in un ristorante ed inizia ad insegnare pianoforte, canto e violino ai giovani di Hartford. Jessie è così brava che, in poco tempo, più precisamente in due mesi, gli studenti a partecipare alle sue lezioni diventano 28. Intanto Jessie e Daniel rincominciano a passare del tempo assieme. Suonano molto spesso insieme per comporre le loro canzoni. I due scrivono e registrano una canzone insieme che è tuttora online su YouTube. Arriviamo a venerdì 12 luglio 2013 e ci spostiamo di circa 18 chilometri da Hartford per arrivare a Richfield. Quella mattina una ragazza di 21 anni di nome Melissa Etzler va a fare una passeggiata con il suo cane a Richfield Park. Tornando alla macchina sente dei passi sempre più vicini dietro di sé. Si gira e vede un ragazzo che la sta per aggredire, armato di coltello. Melissa fortunatamente riesce a prendere il coltello del suo aggressore causandone la fuga, ma è ferita, ha dei tagli sulle mani, quindi chiama i soccorsi che la accompagnano immediatamente all'ospedale. In ospedale Melissa incontra Joel Closing. Gli racconta che quella mattina stava semplicemente uscendo dal parco. Quando aveva sentito dei passi dietro di sé, si era girata, aveva visto un ragazzo e ridendo gli aveva detto, oddio scusami mi hai spaventata. Melissa pensava che quello fosse un ragazzo amichevole e tranquillo che si stava facendo i fatti suoi, quindi si era nuovamente voltata per andare verso la sua macchina che era parcheggiata non troppo lontana. Ma aveva sentito nuovamente quei passi, si era girata e a questo punto si era ritrovata davanti quel ragazzo armato di coltello. Pochi giorni dopo Melissa porta il detective Joel Closing nel parco in cui ha subito l'aggressione, quindi spiega che ad un certo punto si era ritrovata a terra, a pancia in giù, con il ragazzo sopra di sé ed entrambi stavano cercando di afferrare il coltello. La ragazza lo stava tenendo per la lama, ecco perché si era tagliata. Poi, dopo averlo disarmato, il ragazzo le aveva chiesto se poteva andarsene. Melissa gli aveva risposto prontamente, no non con quel coltello, quello lo prendo io. Quindi Melissa aveva tenuto quel coltello e l'aveva messo in macchina e quel coltello era un coltello per sfilettare il pesce. Descrive il suo aggressore come un ragazzo di circa 18-20 anni, con i capelli biondi e la pelle molto chiara. Indossava dei pantaloncini a quadri blu e bianchi ed era alla guida di un Dodge Caravan Blue Navy. Melissa aggiunge che quel ragazzo non aveva neanche provato a celare la sua identità. Non si era neanche travestito, ecco perché era riuscita a vederlo molto molto bene. A questo punto, sulla base della descrizione di Melissa, la polizia rilascia in media un identikit. Il detective crede che questi identikit possano sortire qualche effetto. Si aspetta delle telefonate che identifichino l'aggressore di Melissa. Ma, ahimè, purtroppo nessuno chiama. Così decidono anche di far circolare una foto del furgone che guidava l'aggressore di Melissa, ossia un minivan blu scuro. A questo punto il detective viene avvicinato da un vice del suo dipartimento, il quale gli dice di aver visto con i suoi occhi un'auto come quella dell'aggressore di Melissa, parcheggiata nello stesso identico punto circa due mesi prima. E di quell'auto ha anche la targa. A questo punto torniamo ad Hartford. È domenica 14 luglio e Jesse partecipa a uno spettacolo teatrale chiamato Il violinista sul tetto. E lei interpreta proprio la parte del violinista. Dopo lo spettacolo il cast organizza una festa e Jesse in quell'occasione si sente un po' a disagio perché due uomini più grandi flirtano con lei. Uno dei due la tira verso di sé e la fa sedere sulle sue gambe. Quella notte Jesse rincasa tardi. Intorno alle otto Joy, la madre di Jesse, lascia del bucato in camera di sua figlia prima di andare a lavoro mentre suo padre è già uscito di casa. A quell'ora secondo Joy sua figlia dorme beata nel suo letto. Così Joy va a lavoro e rientra per la pausa pranzo. La casa è silenziosa quindi inizia a chiamare sua figlia senza ottenere risposta. Prede stia ancora dormendo quindi sale in camera sua, apre le tende e inizia a parlarle. Il punto è che Jesse continua a non rispondere. Così Joy si avvicina al letto, scuote Jesse e si rende conto che è fredda. Quindi chiama il 911. La centralinista risponde dicendo Hartford 911 qual è la sua emergenza? Joy esclama mia figlia è blu sono andata a svegliarla perché sono appena tornata a casa per il pranzo ma non si sveglia. La centralinista a questo punto chiede ok sta respirando? Joy ribatte no non credo no. La centralinista a questo punto chiede a Joy se è in grado di fare una rianimazione cardiopolmonare. Joy però a un certo punto esclama Jesse mia figlia è fredda è tanto fredda. Nel frattempo Joy gira Jesse e nota sul suo collo dei segni di strangolamento. Quindi Joy prosegue dicendo i suoi pantaloni sono tutti bagnati e ha a quanto sembra segni di strangolamento. La centralinista ribatte ci sono segni di strangolamento. Joy insiste dicendo questo è ciò che sembra ma non so cosa stia succedendo. Non so cosa sia successo a Jesse. L'operatrice del 911 a questo punto mette Joy in attesa e chiama un'ambulanza. Purtroppo quando arrivano i paramedici è già troppo tardi. Quando Buck torna da lavoro si ritrova in casa una scena del crimine e purtroppo non può neanche salire al piano di sopra per salutare per l'ultima volta Jesse. Il detective della polizia di Hartford, Richard Dickens, è uno dei primi investigatori ad arrivare sulla scena del crimine. Lui e i suoi colleghi trovano Jesse stesa sul letto della sua camera. Ha un segno evidente sul collo e dei segni meno marcati sui polsi. Questo potrebbe voler dire che Jesse prima è stata legata e poi successivamente strangolata. La madre di Jesse ripete agli investigatori intervenuti sulla scena del crimine che quando ha trovato sua figlia, i suoi capelli e i suoi vestiti erano bagnati. Segno che l'assassino potrebbe aver trascorso più tempo con la vittima. Il detective sul momento è convinto che l'aggressore abbia lavato Jesse dopo averla uccisa per poi rimetterla a letto e coprirla. Inoltre non sono presenti segni di effrazione quindi crede che il colpevole sia qualcuno che conosce sia la casa che Jesse. I detective a questo punto iniziano ad indagare e vengono a scoprire ben presto che Jesse ha partecipato ad uno spettacolo teatrale la sera precedente, quindi domenica sera, e poi è andata ad una festa del cast. A quella festa erano presenti due uomini più grandi che avevano flirtato con lei facendola sentire a disagio. Una sua amica dice ai detective di aver visto con i suoi occhi uno dei due uomini tirare Jesse sulle sue gambe per farla sedere. Lunedì uno di questi due uomini non si presenta lavoro e per i detective questo è un indizio da non sottovalutare. Questo uomo però collabora senza alcun problema e i detective dopo aver parlato con lui per un paio d'ore lo scagionano. I poliziotti di Hartford sono all'oscuro che nella vicina città di Richfield stanno già puntando un sospettato ma per un'aggressione e una vittima completamente diverse. Tre giorni prima dell'omicidio di Jesse se ricordate una giovane donna di nome Melissa stava passeggiando con il suo cane in un parco quando era stata aggredita da un ragazzo armato di coltello. Guidava un minivan blu scuro. Il detective dello sceriffo della contia di Washington, Joel Closing, riesce a rintracciare la targa di quel veicolo sospetto. Quel veicolo è intestato da una coppia di mezza età. Quando gli investigatori interrogano questa coppia di mezza età scoprono che hanno un figlio di 20 anni. Si chiama Daniel Bartlett. Nello stesso periodo nella città di Hartford i cari di Jesse organizzano una veglia per ricordare loro figlia. Si siedono tutti insieme nel soggiorno e ricordano i momenti passati con Jesse. Condividono i loro ricordi tra pianti e abbracci e Daniel è lì con loro. Daniel tra l'altro è quello che parla di più ma che si commuove di meno. Pino a quando non riceve una telefonata e non è né sorpreso né turbato da questa telefonata. Dice solo ah ok arrivo. Tra l'altro capo della cornetta c'è il detective closing e la risposta di Daniel lo insospettisce. Daniel infatti non chiede di che cosa si tratti. Non chiede perché vogliano interrogarlo e questo è un comportamento anomalo. Solitamente le persone quando vengono chiamate da un detective per un incontro chiedono sempre delucidazioni tranne Daniel. Ebbene l'interrogatorio di Daniel viene registrato dagli investigatori. Il detective parte dicendo bene sai di che cosa si tratta? Perché sei qui? Daniel risponde no. Il detective ribatte. Si tratta di un incidente su cui io e il detective Walsh stiamo indagando. È avvenuto venerdì scorso. Daniel annuisce. Il detective quindi continua chiedendogli dov'eri prima di venire qui? Daniel risponde ero in una casa a Dartford a casa di Jesse Blodgett. Il detective a questo punto chiede è quella ragazza appena morta? Daniel risponde sì sì abbiamo fatto visita ai suoi genitori. Il detective a questo punto chiede a Daniel se ha il corrente di cosa sia successo a Jesse. Daniel dice credo che qualcuno l'abbia uccisa e abbia fatto violenza su di lei. Il detective continua dicendo ok ok ascolta eri in un parco venerdì scorso? Daniel risponde no. Daniel nega di sapere qualcosa riguardo all'aggressione di Melissa Hetzler. Poi qualcosa attira l'attenzione del detective che chiede a Daniel che cosa hai sotto al tuo braccio? Lì sul gomito. Daniel alza le spalle rispondendo sono caduto probabilmente. Il detective a questo punto ribatte beh vediamo le tue mani. Aprile. Cosa hai fatto al pollice? Daniel dice mi sono fatto male sul luogo di lavoro. Lavoro in una fabbrica. Il detective a questo punto dice dimmi Daniel se chiamassimo il tuo datore di lavoro e controllassimo questa informazione che ci hai appena dato risulteresti ancora un suo dipendente. Daniel a questo punto abbassa la testa e sussurra no in effetti no. Il detective ribatte ecco appunto come pensavo. Daniel stai lavorando? Daniel di nuovo fa no no con la testa. Daniel Bartlett non aveva un lavoro ma ogni mattina si alzava indossava gli abiti da lavoro prendeva il pranzo che gli aveva preparato sua madre e saliva sul furgone dei suoi genitori fingendo di andare a lavoro. Il detective a questo punto insiste chiedendo a Daniel allora come ti sei fatto male al pollice? Parlaci di questo. Daniel risponde di essersi fatto male cucinando la cena. Il detective a questo punto gli dice aspetta un secondo Daniel parliamone. Nessuno mentirebbe sul fatto di essersi tagliato mentre stava cucinando la cena. Sappiamo entrambi che questo non è il tuo caso quindi sia onesto per favore. Che cosa è successo? Daniel a questo punto inizia a perdere colpi e sussurra in effetti ci sono già stato in quel parco. Il detective ovviamente coglie la palla al balzo e gli chiede hai seguito quella ragazza vero? Daniel annoisce e il detective a questo punto gli chiede. Ok Daniel sei stato tu va bene ma perché? Cosa avevo intenzione di fare? Daniel risponde non saprei volevo solo spaventare qualcuno. Ovviamente la cosa ha davvero poco senso quindi i detective gli chiedono di spiegarsi meglio e Daniel confida loro che da quando ha abbandonato il college si sente spaesato ma soprattutto spaventato dalla vita. Quindi voleva semplicemente che qualcuno provasse la sua stessa paura. Quella paura che lo perseguitava e che lui provava ogni singolo giorno. I detective a questo punto sono riusciti ad ottenere una confessione completa con tanto di movente di cui tra l'altro non avevano necessariamente bisogno. Infatti al parco in ogni caso hanno trovato del sangue di Daniel su diversi oggetti e per di più hanno una testimone ossia Melissa Hetzler la ragazza che è sopravvissuta all'aggressione. Quando i detective mostrano la faccia di Daniel a Melissa quest'ultima non ha dubbi è lui il suo aggressore. Il detective closing a questo punto si domanda se Daniel sia lo stesso ragazzo che ha aggredito anche Jesse Blodgett. I dubbi sono tanti e mentre le indagini proseguono Daniel è già in prigione. Pensandoci bene era stato lui a dire ai detective che Jesse era stata aggredita a livello intimo. La polizia ancora non lo sapeva. Questo vuol dire che solo l'assassino poteva sapere cosa fosse capitato a Jesse. I detective spiccano un mandato di perquisizione per il computer di Daniel e in effetti trovano parecchio materiale piccantino ed estremo. Per di più Daniel aveva fatto numerose ricerche riguardo famosi serial come ad esempio Richard Ramirez. Inoltre i detective trovano un video particolare che corrisponde esattamente alla serie di eventi accaduti nella camera di Jesse. E quel video sì che è inquietante. Nel filmato si vedono un uomo e una donna. L'uomo strangola la donna poi la porta in bagno, la lava e la rimette a letto coprendola. E in effetti Jesse era stata ritrovata da sua madre con i vestiti e i capelli bagnati coperta a letto. Queste sono solo coincidenze? Beh i detective per fugare ogni dubbio interrogano nuovamente Daniel. Il detective dice Daniel voglio parlarti di una persona in particolare e quella persona è Jesse Blodgett. Capisco che eri suo amico ok? Cosa pensi che sia successo a Jesse? Daniel a differenza del primo interrogatorio risponde non ne ho la più palle d'idea. Daniel spiega semplicemente che Jesse era la sua ex ragazza e quell'estate era stato molto a casa sua anche nelle settimane precedenti all'omicidio. Un giorno spiega Daniel lui e Jesse avevano cominciato a baciarsi. I due quindi avevano una relazione romantica secondo Daniel ma la tenevano nascosta perché Daniel era fidanzato con Ashley. Gli investigatori ascoltano Daniel, lo guardano e a questo punto si insospettiscono parecchio perché per tutto il tempo in cui aveva parlato sembrava che Daniel stesse piangendo ma in realtà dai suoi occhi non era uscita neanche mezza lacrima. I detective a questo punto gli chiedono dov'era il giorno dell'omicidio di Jesse e Daniel spiega che stava anche in quel caso guidando il furgone dei suoi genitori. Aveva finto di andare a lavoro anche quel giorno così come tutti i giorni della settimana tranne i weekend. Quindi aveva lasciato casa ed era andato in un paio di parchi diversi finendo al Woodlawn Union Park a Dartford. Il detective gli domanda a che ora sei arrivato lì Daniel ribatte per le 10 o giù di lì. Il detective ribatte e cosa ci facevi al Woodlawn Park? Daniel fa spallucce e dice beh per leggere, suonare, scrivere. Il detective a questo punto si incuriosisce e gli chiede scrivere cosa? Daniel a questo punto spiega al detective che sta cercando di scrivere un libro ormai da anni intitolato Red is Red. Raccontava la storia di una ragazza che alla fine sarebbe stata uccisa e il nome di questa ragazza che poi era anche il personaggio principale era Jessica. Se ci pensiamo quel nome è molto simile al nome Jesse. Il detective a questo punto fa a Daniel una domanda davvero interessante ossia gli chiede se Jesse lo avesse ispirato per creare il personaggio del suo libro. Daniel però non risponde. Il detective insiste dicendo puoi aiutarci per favore puoi darci una chiusura? Daniel ribatte. Io ve lo giuro vorrei tanto poterlo fare. Il detective però insiste fino a quando Daniel inizia ad avere la voce rotta dal pianto. Dice mi state mettendo molto a disagio. Il detective gli chiede la motivazione e Daniel ribatte per quello che state cercando di insinuare. Il detective a questo punto riprende dicendo e che cosa stiamo cercando di insinuare Daniel? Dai dai diccelo. Il ragazzo a questo punto usa il suo diritto di rimanere in silenzio. Poi aggiunge non vedo come questa informazione sia utile. Se dobbiamo parlare ancora vorrei avere un avvocato. Ed è con questa frase che si conclude il secondo interrogatorio di Daniel. Questa volta Daniel non ha confessato nulla. I detective però si interrogano sul suo alibi o almeno sull'alibi che lui ha fornito. Daniel ha detto che era al Woodland Park. Quindi i detective riescono ad ottenere i video delle telecamere di sorveglianza. E alle 10.03 di lunedì 15 luglio vedono Daniel. Era davvero lì la mattina in cui Jesse è stata uccisa. La domanda a questo punto è lecita. Gli investigatori hanno fatto un errore? Sono stati troppo veloci ad attribuire un omicidio ad un sospettato facile che era già sotto il loro naso? I genitori di Jesse sono convinti che Daniel non centri nulla con la morte della loro figlia. Peccato che i genitori di Jesse si sbaglino di grosso. I detective infatti vanno a cercare indizi nei bidoni della spazzatura all'interno del Woodland Park. E in effetti trovano una scatola di cereali con all'interno un bavaglio, delle corde e delle salviettine imbevute di alcol. Quella corda trovata nella spazzatura combaccia perfettamente con i segni presenti sul collo di Jesse. Successivamente i detective perquisiscono nuovamente casa di Daniel e trovano quella stessa identica corda nel suo garage. In base alle prove gli investigatori sostengono che Daniel avesse legato Jesse e poi l'aveva strangolata. Oltretutto c'è anche il DNA sia di Jesse che di Daniel su quelle corde e sotto le unghie di Jesse è presente il DNA di Daniel. Anche senza confessione Daniel Bartelt viene accusato di omicidio intenzionale di primo grado. Tuttavia in sospeso c'è ancora una domanda. Perché? Jesse ammirava Daniel, erano amici. Hanno addirittura registrato delle canzoni assieme poche settimane prima che Daniel la uccidesse. Sulla base delle prove che includono molte ricerche inquietanti trovate sul computer di Daniel, la teoria prevalente è che il motivo principale per cui Daniel ha ucciso Jesse è per soddisfare un suo desiderio malato e alquanto diverso. Il detective dice Daniel ha scelto Jesse perché credo fosse un bersaglio conveniente. Sapeva dove era, sapeva che non ci sarebbe stata la sua famiglia in casa. Penso che volesse uccidere qualcuno e Jesse era la vittima più facile per lui. La madre di Daniel, Laura, dice ai giurati durante il processo che suo figlio era un ragazzo riservato ma obbediente e un lettore vorace. Quando aveva deciso di non tornare al college all'inizio dell'anno precedente Daniel sembrava depresso. Il ragazzo era tornato a vivere a casa dei suoi genitori nel gennaio del 2013 e i suoi genitori gli avevano chiesto di trovare un lavoro per aiutarli a pagare l'affitto se non aveva intenzione di tornare a scuola. Ad aprile del 2013 Daniel aveva detto ai suoi genitori di aver trovato un lavoro in una ditta di traslochi ad Astisford. Aveva dunque comprato degli stivai e degli abiti per andare a lavoro. Usciva di casa regolarmente alle 6 e 30 del mattino e rientrava tutti i pomeriggi alle 17. Ai suoi genitori aveva detto che a lavoro aveva incontrato nuovamente un suo ex compagno di scuola. Inoltre quel lavoro non è che gli piacesse così tanto anzi. Il fine settimana precedente l'omicidio di Jesse la famiglia Bartlett aveva trascorso una giornata sul lago Winnebago e un'altra nel cottage della madre di Laura che a sua volta è la madre di Daniel vicino Fillmore. Con loro chiaramente c'era anche Daniel. Il lunedì successivo era andato a lavoro come sempre ma era tornato presto un po' prima di mezzogiorno dicendo che aveva cambiato turno. Daniel aveva trascorso la serata con la sua fidanzata Ashley. Il processo dura poche settimane e Daniel viene dichiarato colpevole. Nonostante ciò non confessa in tribunale si rivolge ai genitori di Jesse dicendo Buck, Joy, non posso darvi le risposte che state cercando. Questa tuta che indosso, queste catene, non mi rendono colpevole. E infatti sono state le prove a renderlo colpevole. Eppure anche in tribunale Daniel, come un attore che recita il suo ultimo monologo in un'opera teatrale, continua a blaterare. E infatti Daniel continua dicendo non posso dimostrare di essere innocente a nessuno, nemmeno a me stesso. Non posso provare che il sole che non vedo da oltre 400 giorni ancora sorge e tramonta, ma mi piace credere che lo faccia. L'unico motivo per cui sono andato a processo è perché mi è stato detto che non mi sarebbe stato permesso confutare le prove. Devo solo accettare la mia condanna. Giudice Martins, mi dispiace per lei, ma la mia coscienza è pulita. Dopo tre ore di deliberazione la giuria condanna Daniel all'ergastolo senza possibilità di condizionale. Durante la sentenza il procuratore distrittuale afferma che Daniel sia il criminale più pericoloso che abbia mai incontrato durante i suoi 17 anni di carriera, mentre altri lo descrivono come un sociopatico e un narcisista. A caso chiuso il padre di Jesse dice queste parole strazianti ma coraggiose a mio avviso. Secondo me il padre di Jesse è un uomo forte e coraggioso. L'uomo dice non finirò mai più una lunga giornata di lavoro con una passeggiata attorno all'isolato con la mia bambina, parlando liberamente e profondamente di tutto ciò che ci viene in mente. Negli ultimi mesi aveva preso l'abitudine di iniziare ognuna di quelle passeggiate con «allora, com'è andata la tua giornata papà?» «Mai più guarderò fuori dalla finestra e vedrò la sua macchina parcheggiata nel nostro violetto. Ora la guido alla sua migliore amica, Kelly, e ogni tanto la vedo parcheggiata da qualche parte in città e vengo colto alla sprovvista. Per una frazione di secondo penso che sia lì, poi il dolore mi riporta alla realtà, ogni volta è come una pugnalata al cuore». Come posso descrivere il dolore di questa perdita? Non posso, è lì ogni secondo e non andrà mai via. Molti mi dicono che mi adatterò a provare questo dolore, imparerò a vivere anche con questo dolore, ma rimarrà sempre con me e non andrà mai via. So che hanno ragione. Gli amici di Jesse sono stati fantastici, sono tutti al college ma molti di loro vengono spesso a trovarci quando tornano a casa e in fondo vorrei anche io che Jesse tornasse dal college. Jesse è nata in casa, con parto naturale, senza farmaci e senza dottore. C'era solo Cynthia, la nostra ostetrica. Le sono stati portati via agli anni più speciali della sua vita. Non potrà mai vivere il giorno del suo matrimonio o la nascita di suoi figli. Quanto alla mia opinione sulla condanna, credo che il giudice Martins abbia fatto il suo lavoro. Non desidero vendetta o punizione e neanche Jesse la desidererebbe. Dan, io ti perdono e cerco di perdonarti ogni giorno da quando ho scoperto che sei tu il colpevole. Credo che ci sia del bene e del male in ognuno di noi, quindi non ti demonizzo, sarebbe troppo facile. Per noi sarebbe troppo facile separare noi stessi e la nostra umanità da te e dalla tua. C'è del male in te, credo che ci sia in tutti noi, ma tu, quel male, hai scelto di seguirlo. Posso solo dirti che hai rubato la vita e il futuro di Jesse. Hai avuto potere e dominio sul suo corpo per alcuni minuti, ma mai, neanche per un secondo. Hai avuto potere o controllo sul suo spirito, sul suo cuore, sulla sua volontà. Quindi, Daniel, te lo ripeto, sei perdonato, ma non conoscerai il perdono finché non dirai la verità. La verità ti renderà libero, ma solo quando racconterai tutto, ogni dettaglio scuro e sordido. Dovrai raccontare il tutto prima a te stesso e poi al mondo intero. Quanto a Jess, ora è felice e libera. Le avevi detto poche settimane prima di ucciderla che avevi fatto delle scelte sbagliate. Spero che tu possa fare delle scelte corrette ora. Allora, ragazzi, è chiaro, tutti i casi sono tristi, ma credo che questo sia tragico perché nessuno aveva mai visto del male in Den. Anzi, lo vedevano come un gran compagnone e, per di più, era costantemente vicino a Jesse. L'ha frequentata per settimane prima di ucciderla. E trovo tutto ciò davvero assurdo, anche perché Daniel non ha mai confessato. Quindi non abbiamo un movente, non sappiamo il motivo per cui ha fatto quello che ha fatto, ha fatto questo terribile gesto. Io spero che Daniel un giorno decida di parlare e di confessare, non tanto per noi, per questo video, no, per i genitori di Jesse. Meritano di sapere perché il loro figlia è stata uccisa da colui che credeva essere il suo migliore amico del liceo. Ma voi cosa ne pensate? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Detto questo, io ho finito di parlare in questo video. Spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Conoscevate già questo caso? Come già vi ho detto, fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Nel frattempo vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non fate nulla di criminale. Ciao a tutti!